Sapevo di qualche uscita dei giorni scorsi, anche sulla stampa internazionale, che mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso questa uscita di questa mattina di un esponente delle forze di opposizione. L'ho appreso mentre ero lì in Consiglio dei Ministri, insomma, l'abbiamo anche commentato, dico la verità, perché ci è apparso un attacco molto, come ha sottolineato lei, veramente inusuale, affermazioni molto gravi. Rimango un po' sorpreso, dico la verità. Noi chiediamo ai cittadini comportamenti sobri, atteggiamenti responsabili. Quindi la politica, in questo momento ci sono io come primo responsabile delle azioni di governo, però è chiaro che la politica ha bisogno che tutto il sistema Italia, tutti i cittadini, tutti i partecipi di questa comunità nazionale lavorino in una medesima direzione. Altrimenti questa emergenza è difficile superarla, è difficile che il Paese possa rialzare la testa, l'ho dichiarato ieri anche nel messaggio, se tutti, ciascuno per il proprio ruolo, per la propria parte non si lavora in questa direzione. Francamente chi ha compiti di elevata responsabilità politica, che faccia delle dichiarazioni che secondo me contrastano, guardi, contro il buonsenso, mettiamola così, contro il buonsenso, secondo me non fanno un buon servizio al Paese, non le capisco, ma forse è un mio limite personale, perché è chiaro che rischiano quelle stesse affermazioni fatte all'estero, fatte nei canali TV, rischiano esse sì di danneggiare l'immagine di un Paese che vuole mostrarsi in questa fase tenace, orgoglioso, desideroso di superare quanto prima questa emergenza e di rialzare la testa. È uno schiaffo non al primo responsabile di governo, è uno schiaffo a tutti i cittadini che sono invitati a rispettare delle regole di condotta, a mantenere nei contatti sociali a giusta distanza, a rinunciare a fare dei piccoli sacrifici, piccoli a volte grandi sacrifici. È uno schiaffo, secondo me, a tutti i cittadini che in questo momento sono stati chiamati a raccolta per fare uno sforzo collettivo.